Allora ragazzi vi ricordo che 5.000 supporta un creatore nel negozio oggetto di Fortnite Ci sarà il contest per queste cuffie, anzi ci sta già il contest Eeeh... niente, 5.000 supporta un creatore nel negozio oggetto di Fortnite Mi raccomando taggatemi su Instagram per tutti coloro che mi supporteranno Efesto.96, il link è in descrizione E comunque anche se non dovessimo raggiungere i 5.000 supporta un creatore in un breve periodo Il 30 giugno farò l'estrazione Per uno di voi queste cuffie, firmate e autografate da me Sì, firmate e autografate da me è la stessa cosa Quindi firmate e spedite da me, autografate e spedite da me ragazzi Ragazzi vi ricordo che per partecipare al contest supporta un creatore Efesto.96 E così parteciperete anche voi E niente ragazzi, link è in descrizione di Instagram E anche Twitch, link è in descrizione ragazzi Tutti i giorni live, mi raccomando, da lasciare un follow E adesso, detto ciò, io vi auguro una buona visione Spero che il video vi piaccia Bella a tutti ragazzi, ciao belli Perchè mi prendi da dietro al muro questo? Perchè mi prendi da dietro al muro? Perchè mi prendi da dietro al muro? Perché mi imitava prima che io uccissi Ma chi è che mi spara? Era lui invece Boh Non l'ho ben capito No, ho sbagliato Non l'ho ben capito Ok Eh ragazzi un errore ha costato quasi la partita Avete visto? Non l'ho ben capito Ok Alla prossima Tanto c'ho l'altra già Ma sai perché Siamo, non lo so, sono d'accordo con te Mai non è detto Dipende che sensibilità usi x e y Soltanto che tu abitui il tuo cervello A usare soltanto una sense Soltanto quando usi una sense così tanto alta Ti dà dei vantaggi fare questa cosa Comunque perché faccio così poche FPS 16 persone, guarda lì FPS Sì 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 I ch